Ehi, rieccoti. Mamma mia, hai un sorriso enorme. Cos'è successo? Raccontami tutto. No, vabbè. Visto che alla fine tutto si è risolto e ti è andata per il meglio, io te lo dicevo settimana scorsa. Ehi veramente tanto preoccupato, preoccupata, però alla fine tutto si è risolto. Non l'hai visto? Mamma mia, sono veramente felice per te. È un grande, grande successo questo qua. Quindi bisogna festeggiare, assolutamente. Peccato però che non possiamo andare a festeggiare fuori perché piove. Ma qua in casa ho tutto quello che serve, perciò non ti preoccupare. Lascia fare a me, sono sicuro passeremo una serata stupenda. Sì, quindi sono veramente felice dai di questo. È andato bene, vedi? Perfetto. Per conoscere ho qui una cosa che voglio darti come piccolo regalo di questa situazione che come vedi si è sistemata totalmente. Sì, ed è questa rosa che fa anche un ottimo, ottimo suono. ... Grazie. Quindi questa te la regalo, l'appoggio lì. E poi, tu hai qualcosa di specifico che vorresti fare o lasci tutto nelle mie mani? La seconda, va bene? Non te ne pentirai, no, 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 no. Ok, allora, io inizierei con qualcosa di semplice, va bene? Ho qua questa scatola, color beige più o meno, un po' più chiaro. Dovevo rifare un po' di tapping, quindi vorrei fare... ... ... ... Ovviamente dopo lo faccio fare anche a te. ... 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 già detto a tutti la bella notizia, o vuoi aspettare domani mattina magari? Aspettare, va bene, quindi possiamo dire che sono tra i primi che lo sanno, stupendo, veramente stupendo. Comunque sì, sono davvero felice per te. Adesso ho qui questo oggetto che non so bene come chiamare, che però a me rilassa tantissimo. Questa cosa arancione di gomma da tenere in mano è proprio stupenda. Dopo la devi assolutamente provare. Ficcio l'ho, ti sento l'ho, ti sento l'ho. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Maneggiare è qualcosa di troppo bello. Ma adesso tienila tu. Senti com'è top? Io adoro. Mi dispiace proprio che ci sia questo tempo un po' così fuori. Però vabbè, possiamo passare una serata tranquilla e divertendoci in casa. Perché io ho qua due cucchiai. Che dopo laveremo e useremo per mangiare il gelato. Perché non si può festeggiare senza gelato. Ma che adesso voglio utilizzare per fare questa cosetta. Concentrati sul microfono. Allora. 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 Dimmi tu, ho qui poi sempre per passare questa serata o preno una pallina con le Orbeez perché secondo me è stupenda da manovrare. Alla prossima. Una pallina del genere secondo me ci fa anche ricordare l'infanzia. Ma adesso prendi la tua. Divertiti anche tu. E come ultima cosa possiamo prima di andare a letto giocare un po' con... La Switch, che ne dici? Ho tanti giochi rilassanti che possiamo fare anche in coppia. Il mio preferito ovviamente è Animal Crossing, però ce ne sono anche altri. Così siamo sicuri di passare una bella serata. Preferisci il controller rosso? Oculo Blue. Ma bella. 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 Noi. Ma bella. Noi. Ma bella. Ma bella. Ma bella. Tec. Ma bella. Ma bella. Il video di oggi finisce qui, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e di qua il tasto per andare sul mio canale e vedere tutto quello che vuoi, sia video che shorts. Io ora ti mando un grandissimo bacio e ricorda che tutte le situazioni brutte miglioreranno, quindi buonanotte. Buonanotte 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 Buonanotte